A Torino il ministro della difesa Antreotti consegna le medaglie d'argento al valore civile e alle bandiere del quarto reggimento alpini e del primo reggimento artiglieria alpina. La cerimonia ha avuto luogo sul piazzale Duca d'Aosta dove sono schierate in armi le rappresentanze dei corpi militari di stanza nella città. I torinesi applaudono a lungo i reparti che sfilano dopo la messa al campo e la lettura della preghiera dell'alpino. Ma gli applausi più calorosi come sempre e come in ogni città d'Italia sono per i veci, per coloro che hanno fatto parte delle divisioni dal leggendario valore. E oggi su questi uomini abituati a sfidare la neve cade una profumatissima nevicata di fiori.